Il massimo sforzo di questi giorni che ci separano dall'appuntamento importante dell'Assemblea Nazionale sarà già lavorare per la massima unità di questo partito. Come dicevo già ieri sera, la responsabilità che sentiamo è proprio quella di tenere insieme questa vitale e vivace comunità democratica, avere cura da custodi della sua storia, dei suoi valori, proiettarli al futuro di fronte alle sfide nuove e cruciali per il futuro del Paese e non solo, anche dell'Europa e naturalmente mentre teniamo insieme questa storia teniamo insieme anche le culture che hanno forgiato questo partito. Io sono una nativa democratica e quindi riuscire a tenere insieme è per noi fondamentale oggi che c'è bisogno di lavorare tutte e tutti per il rilancio, per la risalita, per rialzare la testa, per dare il nostro contributo. Da questo punto di vista è chiaro che tenere insieme la comunità è fondamentale senza più rinunciare però a una linea politica chiara, comprensibile che è quella che ieri le persone che sono venute a votare alle primarie hanno deciso di premiare, di scegliere.